La stagione delle trimestrali è nel vivo, in America stanno per uscire i dati sull'inflazione eppure le borse continuano ad essere deboli. Cosa fare? È l'ora di comprare o è l'ora di vendere? Ce lo dicono gli esperti di House of Trading. Sì, la prima è una carta rossa, è una carta rossa con la quale andiamo sul nostro FuzziNib. Secondo me dopo le vendite, in particolare alle quali abbiamo assistito nelle giornate di 5, 6 e 9 maggio scorso, quindi la giornata di ieri, il mercato potrebbe rimbalzare dai minimi, però è chiaro che comunque sia la correzione è stata importante e quindi io mi aspetto che queste vendite lasciano poi degli strascichi, perché comunque insomma parliamo di un ribasso importante, il mercato nel giro di tre sessioni ha perso quasi il 7% e quindi la strategia diciamo ecco cercherà di sfruttare un eventuale ritracciamento di prezzo in area 23.500 punti, livello che il mercato ha cercato di difendere nel corso del mese di aprile, prima poi insomma di romperlo al ribasso nella giornata del 5 maggio, quindi dando di fatto il là proprio all'estensione delle vendite e quindi è un'operazione, è sostanzialmente un sell limit a quota 23.500 punti, lo stop è uno stop piuttosto contenuto a quota 23.750 punti, il target è a quota 23.150. Secondo te stiamo andando a toccare i minimi dell'anno? Il rischio c'è, io credo che sostanzialmente mi aspetto in virtù della dinamica di prezzo attuale, mi aspetto che il mercato possa tranquillamente fare i 22.2, che ritengo essere l'ultimo livello di supporto in grado di impedire poi effettivamente un ritest dei minimi annuali, quindi secondo me sarà molto importante osservare la dinamica di prezzo se il mercato dovesse scendere su questi livelli perché è l'ultimo baluardo prima poi di vedere un ritest appunto di quota 21.000 punti sicuramente. Secondo te si è rotto qualcosa nel legame degli investitori rispetto alla componente azionaria? Perché se andiamo a vedere, sì vi è la crescita dei rendimenti, penso al Bund, penso al TNOT, ma sono tutti rendimenti che insomma non è che sono poi così elevati se confrontati a quello che è il costo della vita, eppure abbiamo un mercato azionario che indubbiamente ha corso e veniamo da un trend rialzista pluriannale, forse il più lungo della storia, però ecco, sembra che un po' il passo sia stato perso. Sicuramente quello che vediamo nella fase attuale è una forte sfiducia nel comparto azionario, quindi è chiaro che sicuramente comunque si appesano i rialzi sui rendimenti dei titoli di Stato, anche se come dicevi giustamente tu, insomma seppur frazionali, insomma in valore assoluto, però insomma ecco sicuramente per quanto riguarda l'Europa tutti i rischi insomma collegati alla mancata crescita economica, i timori insomma ecco per una guerra che comunque sia diciamo impatta sul mercato delle materie prime e quindi c'è secondo me un mix di fattori che provoca in questo momento una sfiducia e l'aspetto secondo me più importante è che per ora diciamo non se ne vede la fine, nel senso che penso che tutti, sono concordi anche analisti delle maggiori banche d'affari che il mercato potrebbe tranquillamente, parlo dei listi nazionari, il mercato potrebbe tranquillamente correggere ancora rispetto a quelli che sono sui minimi attuali, questo penso sia l'unica cosa su cui siano praticamente tutti d'accordo. Nell'insieme degli argomenti di cui abbiamo parlato finora peraltro non abbiamo citato quella Cina che insomma rischia da un lato con i suoi lockdown di peggiorare ancora l'outlook della crescita globale in questo 2022 e poi essendo la fabbrica del mondo il blocco dei porti potrebbe ulteriormente aggravare il quadro economico di realtà come il vecchio continente che insomma sappiamo da anni ormai da capire se giustamente o meno ha deciso di delegare questa politica industriale all'ex impero celeste. E allora abbiamo visto la prima strategia l'abbiamo messa a referto a casa vi ricordo se volete 1 avete il sondaggio da votare si parla di spread BTP Bund quest'oggi ma soprattutto potete inviare le vostre domande e commentare le strategie dei protagonisti di House of Trading. Filippo la seconda strategia che metti in campo questa settimana su Cosaverte? Si parlavi poc'anzi di Cina dei nuovi lockdown e qui va inquadrata anche in questo scenario geopolitico la seconda strategia di oggi ovvero che è una strategia sul petrolio sul VTI che chiaramente rimane diciamo ecco rialzista e personalmente rimango con un'ottica rialzista di medio e lungo periodo però sicuramente nel breve sta scontando anche appunto quella che è la situazione legata ai lockdown in Cina e quindi nel brevissimo diciamo ecco un surplus di offerta. Questo ha spinto diciamo ecco le quotazioni ad indietreggiare dopo aver testato nuovamente quota 110 dollari e anche qui vale un po' lo stesso discorso fatto per per il Fuzzimib nel senso che il mercato nella giornata di ieri comunque sia è sceso è sceso molto e quindi il mercato se non sbaglio ha fatto una barra insomma intorno al meno 6 e insomma ecco per quanto la volatilità di questo strumento sia particolarmente elevata nel corso dell'ultimo periodo però comunque sia una barra da meno 6 non è un qualcosa che vediamo tutti i giorni. Quindi anche qui credo che sia una diciamo ecco uno strappo destinato a lasciare il segno e anche qui cercheremo di intercettare un eventuale pullback in area 106 per andare a riposizionarci nuovamente short lo stop è a quota 108 dollari mentre il target è a quota 104 Ascoltami vedevamo un grafico del petrolio sulla declinazione VTI che ormai da diverse settimane è all'interno sostanzialmente di un ampio ma di un trading range arrotondando la soglia dei 90 dollari al barile parte inferiore e quella dei 110 parte superiore. In questo peso e contrappeso delle forze che muovono il prezzo del petrolio cos'è che sta guidando ora il lockdown in Cina? Perché vediamo come l'Europa abbia annunciato, Ursula von der Leyen ha comunque anticipato che non saranno eventualmente sanzioni che avranno applicate da subito ma ci vorranno qualche mese ma vediamo che quello che dovrebbe essere un elemento di sostegno alle quotazioni del petrolio nella declinazione VTI insomma non è che lavorino bene mi viene da dire che forse o il mercato ha già scontato tutto oppure è davvero la Cina a pesare in qualche modo? Sì beh per quanto riguarda il petrolio il petrolio è alla ricerca di un punto di equilibrio io come ho detto nel medio e lungo periodo rimango di una view rialzista a meno che chiaramente non vengano non vengano rotti i livelli importanti ma perché perché comunque diciamo ecco si va sempre di più verso il tema della sicurezza energetica e quindi il fatto di garantirsi poi no gli approvvigionamenti sappiamo tutto quello che sta succedendo con l'embargo al petrolio e anche al meno col gas però insomma quindi questo tema della sicurezza energetica sarà un fattore ma soprattutto avrà un costo e quindi io mi aspetto insomma che che le quotazioni possano appunto beneficiare di questo secondo me come dicevo prima nel breve ci sta questo questo storno che è uno storno di breve legato secondo me a quanto sta accadendo in Cina e potrebbe durare ancora secondo me un paio di settimane due o tre settimane si parla insomma dell'eventuale allentamento di questi lockdown verso la fine del mese e quindi questo potrebbe essere diciamo ecco una stima insomma per andare a valutare poi la ripresa in termini temporali dell'up trend e allora anche questa strategia l'abbiamo segnata entra in campo da domani mattina ai 9.05 rimarrà sul mercato fino a martedì prossimo alle ore 12 e a quel punto vedremo se si sarà attivata o meno in base a quello che saranno anche i risultati giriamo pagina e siamo di già alla terza strategia che ci proponi in questo tuo intervento ad House of Trading sì allora la terza strategia è una strategia in questo caso al ribasso e anche qui ha quindi altra carta rossa in questo caso la strategia propone uno short sul gold mercato che dopo aver testato quota 2.000 dollari nel corso del mese di aprile ha visto insomma quel mercato lentamente deprezzarsi fino a andare a scambiare la giornata odierna di sotto dei 1.850 dollari l'oncia secondo me io quello che ho visto nel corso delle ultime sessioni dopo la rottura dei 1.900 dollari livello comunque sia importante perché anche qui con un doppio minimo nel corso del mese di marzo aveva innescato poi l'ultimo importante d'up trend questo livello è stato rotto al ribasso con una barra ad ampio range nella giornata del 2 maggio e dopo di che il mercato ha fatto molta fatica e quello che si vede bene è un netto rifiuto del prezzo nelle sessioni successive e quindi delle hanging man poi nelle giornate appunto del 4 e 5 maggio scorso che ci fanno appunto capire come in questo momento il mercato si ha in mano ai venditori l'idea è quella che appunto sul anche qui cerchiamo di sfruttare un eventuale pullback in area a 1.870 dollari lo stop loss è posizionato a 1.890 e il target è a quota 1.850 guarda sto veramente osservando il grafico dell'oro ed è difficile capire cosa c'è dietro questa debolezza almeno per quanto mi riguarda diciamo Filippo che ora siamo in un livello importante da cui molte delle prospettive per il gold passa sottolineavi la debolezza però ecco se non si trova difficoltà a ripartire da 1.840 1.845 davvero la possibilità di rivederlo sui minimi del 2021 accresco nel modo significativo sì beh ma secondo me il mercato ha una base importante a quota 1.670 qui c'è una base importante da tenere io ritengo che il mercato potrebbe tranquillamente scambiare e iniziare magari anche a lateralizzare su un'area di particolare confidenza per il mercato del gold ovvero quella compresa tra 1.840 e 1.755 diciamo grosso modo è un'area che di fatto aveva contenuto le quotazioni per tutta la seconda parte del 2021 salvo rari eccessi quindi io credo che magari ecco l'idea potrebbe essere proprio questa di vedere un gold diciamo ecco muoversi intorno a un punto di equilibrio intorno ai 1.800 dollari in attesa poi ecco di capire quali saranno le prossime mosse peraltro è vero le correlazioni eccetera sono saltate da un bel po' di tempo però insomma stiamo davvero vedendo le quotazioni del mercato azionario che scendono le quotazioni di un bene a rifugio come il gold che scendono le quotazioni di un altro bene a rifugio almeno così come è stato dipinto nel tempo seppur con un legame molto stretto che oggettivamente si è avuto con lo scoppio la pandemia dallo scoppio la pandemia in avanti sto parlando di bitcoin ecco anche quello sta scendendo scivolato anche sotto i 30 mila dollari a bitcoin è una fase particolare che dici se il messaggio che passo è fate ancor più attenzione del solito sul mercato ma assolutamente assolutamente sì è una fase particolarmente delicata l'hai detto giustamente tu tante correlazioni saltate in questo momento l'unica certezza che sembra esserci per gli investitori è il dollaro dollaro che sta vivendo diciamo alcuna fase di forte apprezzamento questo secondo me è al momento l'unico vero bene bene rifugio e quindi per quanto riguarda il resto ripeto la situazione è incerta soprattutto per chi magari ecco segue il mercato azionario ma non solo insomma azionario in generale per chi segue i mercati diciamo ecco soltanto da poco tempo ed è abituato non è abituato diciamo a vedere fasi come queste magari ha iniziato a fare trading quando il mercato era prettamente un mercato toro un mercato all'interno di qualsiasi correzione era occasione per riposarsi per riposizionarsi nuovamente long e quindi chiaro che per molti diciamo ecco per lo di investitori più giovani questa è una fase del tutto sconosciuta e quindi è chiaro che le insidie sono dietro l'angolo fai molto bene a ricordarlo penso una recente conferenza in quel di milano dove all'interno di un pubblico molto giovane proprio i più esperti sottolineavano questo attenzione ragazzi avete visto un mercato drogato unidirezionale dove chi comprava anche se comprava male aveva margine modo per recuperare attenzione perché poi il mercato quando si declina in una modalità ribassista diventa molto più difficile da gestire anche in termini di spazio tempo e portata dei movimenti a questo punto andiamo a vedere la prossima strategia la quarta strategia che ci proponi questa settimana sì la quarta strategia è una strategia long finalmente dopo tre short andiamo con con una strategia di tipo long è una strategia prettamente di stop picking su un titolo che ritengo insomma particolarmente interessante ovvero ferrari è un titolo che sta sperimentato sta sperimentando una fase di di correzione però ritengo che insomma quota 175 euro ci sia una una base di acquisto interessante e quindi diciamo ecco aspettiamo eventualmente che il mercato correga ancora un altro pochino per venire a prendere il nostro ordine che in questo caso è un my limit quindi a quota 175 euro stop loss a 170 e target a 185 quando si parla di ferrari filippo si parla di una realtà almeno così come ho sempre sentito che non conosce crisi di fatto si rivolge a un pubblico quello dei super ricchi che si possono perdere un po' possono aver meno entrate però ecco cadono in piedi secondo te cosa c'è dietro a questo movimento di ferrari è una questione di vendite prospettiche ovviamente le sanzioni verso la russia rappresentano un peso anche perché i russi gli oligarchi ma non solo hanno una capacità di spesa non indifferente e la competizione delle auto elettriche cosa è a un passaggio di testimone rispetto a un'altra casa automobilistica quella guidata da ilon musk come la vedi tu parli chiaramente della correzione dell'ultima correzione che sta sperimentando ma in generale da comunque aver toccato al rotondo anche se non le ha proprio toccati 250 euro adesso la vediamo a 179 è comunque una debolezza non banale sì beh diciamo che tutto il comparto dell'auto sta sperimentando diciamo una fase piuttosto debole qui chiaramente pesa tutta la carenza dei microchip ma non solo di tutta quanta quella componentistica che sostanzialmente ecco non permette diciamo ecco di evadere poi quella che sarebbe una richiesta di auto maggiore no quindi qui c'è c'è il problema opposto diciamo ecco il mercato non riesce a a soddisfare la richiesta che arriva detto questo però appunto ritengo che comunque sia ferrari diciamo non lo scopro di certo io sia un brand di caratura mondiale è un brand che comunque sia continua a macinare record su record tra l'altro previsto per per la seconda metà di quest'anno se non se non erro il lancio del nuovo sud il puro sangue e quindi questo dovrebbe fornire un'ulteriore spinta alle vendite ferrari che peraltro non mi trovi preparato io forse manco un cerchione del puro sangue riuscirei a comprare sì sì però oltretutto è un una un'azienda che sembra dove appunto lasciamo stare le sanzioni ma comunque la carenza di componentistica sembra non impattata e ferrari ha dichiarato più volte di come è a disposizione di come ha a disposizione tutta quanta la la componentistica per per soddisfare gli opinioni in entrata e quindi non risentirà di fatto no di questa di questa carenza di componentistica e quindi questo secondo me potrebbe fornire appunto un'occasione di acquisto interessante è chiaro che poi la transizione elettrica secondo me sarà un qualcosa che ma questa è una mia opinione personale sarà un qualcosa che secondo me non non impatterà sul mercato delle delle auto di lusso nel senso che se secondo me se il motore termico diciamo ecco continuerà ad avere vita tra dieci anni sarà soltanto all'interno di queste di queste supercar e quindi dove effettivamente poi no questo questo motore termico ti dà un'esperienza di guida del tutto diversa rispetto a all'elettrico però chiusa qui la piccola di la piccola divagazione come detto ritengo possa essere un'opportunità in interessante in caso di ritesto di 475 euro per chi non lo sapesse sei ingegnere quindi direi che hai proprio la capacità anche tecnica per capire le differenze di prestazioni il tempo vola e a questo punto abbiamo solo l'ultima carta da mettere sul mercato per questa settimana d'house of trading sì l'ultima strategia è una strategia una carta rossa quindi una strategia short sull'euro dollaro parlavamo prima appunto della della forza del del dollaro che che stiamo vedendo insomma ecco nel corso dell'ultimo periodo qui c'è da dire che cosa c'è da dire che siamo effettivamente su minimi interessanti perché comunque sia siamo in area 105 e sono dei livelli insomma ecco che il mercato diciamo ecco fa fatica a tenere l'abbiamo visto insomma nel corso di diverse di diverse occasioni negli anni passati ogni qualvolta il mercato si è spinto al di sotto di questi di queste soglie limiti come potrebbe essere 1.05 ma anche 1.06 il mercato ha prontamente mostrato una reazione stiamo cercando appunto il mercato secondo me sta provando a reagire anche nella fase nello scenario attuale però la realtà è che poi alla fine se vai a vedere non ci sono grossi grosse argomentazioni che possano in questo momento sostenere una ripresa dell'euro nei confronti del dollaro anzi io credo che appunto se dovesse fallire anche quest'ultimo tentativo quest'ultima base di accumulo che il mercato sta facendo in area 104 80 insomma è più facile secondo me che il mercato aggiorni i precedenti minimi che non che esca da quest'area laterale quindi che rompa al ribasso tanto per citare un livello 1.06 e 5 che è il primo livello da tenere d'occhio e quindi chiaro che giusto per considerazione anche gli amici che ci seguono a casa magari non non riescono a vederlo sto volutamente usando un grafico con un time frame settimanale perché perché sì come diceva Filippo siamo vicino a dei livelli assolutamente cruciali strategici ma soprattutto volevo segnalare quella che è stata a mio avviso un'importante violazione al ribasso avvenuta qualche settimana fa e sto parlando di questo supporto dinamico di lungo periodo che proprio è capitolato e da qui la recente e recentissimo test di questa soglia di aria 1.04 e 40 a 1.05 che probabilmente cruciali per le sorti tutto però e questo ricordiamolo sempre all'interno di una trend discendente di più ampio respiro per quanto riguarda l'euro dollaro nel 2008 con il fallimento di liman eccetera si era arrivati in area 1.60 da allora ecco un lento ma graduale e inesorabile discesa delle quotazioni del cambio tra divisa unica europea e quella americana Filippo io ti ringrazio per essere stato con noi devo solo mettere a referto i livelli da indicare per la strategia andiamo a vederli Sì allora è uno short questo è un sell stop che si attiverebbe in caso appunto di rottura a ribasso di quota 1.05 e 15 lo stop loss è a quota 1.05 e 7 e il target è a quota 1.04 e 50 E allora una correzione che chiederei di fare a regia così poi rimettiamo la carta giusta sono da invertire i livelli di stop e di target il target è a 1.04 e 15 lo stop a 1.05 e 70 a memoria comunque sono da invertire e così adesso andiamo a rivedere a metterle ufficialmente a referto una carta rossa sull'euro dollaro per quanto riguarda la strategia proposta da Filippo Giannini vediamo se riusciamo a vedere la carta eccola qui grazie mille e quindi così chiudiamo ufficialmente questo tuo intervento Filippo buona serata intanto grazie Riccardo arrivederci a tutti ti è piaciuta questa strategia? bene iscriviti al canale BNP Paribas attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading grazie a tutti